Continua a dividere cittadini e associazioni la realizzazione del parcheggio interrato in piazza le martiri della libertà fuori porta Santa Maria. Dopo il consiglio comunale aperto di martedì scorso alcuni cittadini si sono dichiarati contrari, i commercianti invece vedono l'idea del parcheggio come un'opportunità. A ricordarlo il presidente della commissione città di Lucca di Confcommercio Charles Di Benedetto. A prescindere da quello che è il parcheggio proposto dall'amministrazione la necessità di parcheggi è di primaria importanza soprattutto in una fase in cui Lucca sta veramente diventando un punto di riferimento internazionale quindi tra eventi periodici e tra il turismo organico di tutte le settimane soprattutto nel periodo estivo e sia sia la difficoltà comunque di far parcheggiare le persone. Un parcheggio intanto ci dà la garanzia di dire ok posso arrivare davanti alla porta a pochi metri e avere la garanzia appunto di trovarlo. Non dimentichiamoci del Borgo Giannotti che anche esso purtroppo soffre di parcheggi e soffre di clienti che si lamentano spesso con le attività perché purtroppo il parcheggio non lo trovano. Ecco un parcheggio di queste dimensioni con un bagno pubblico di facile accesso sicuramente può aiutare. Cosa che non va Don Baroni e quale sarebbe il vantaggio di questo parcheggio? Ad oggi magari cambierà tra 50 anni la mentalità della persona dell'italiano medio è che vogliono comunque parcheggiare il più vicino possibile. Quindi il fattore di avere un parcheggio che sia un metro in questo caso di Porta Santa Maria e che possa trovare sicuramente coperto quindi anche un po' più custodito sicuramente può essere interessante. Nelle ore notturne è anche un po' più sicuro. C'è un po' di preoccupazione per i tempi e le modalità di realizzazione del parcheggio interrato che potrebbe bloccare il traffico e viabilità cittadini. È la cosa che ci preoccupa positivamente perché sicuramente saranno mesi e anni particolari quindi quello che chiediamo è intanto la massima trasparenza nel gestire tutti i vari passaggi che ci saranno quindi comunicare bene con l'associazione non solo nostra ma di categoria in generale per trovare al meglio le soluzioni logistiche per gestire sia la viabilità sia i parcheggi in quella fase lì. Quindi siamo favorevoli, siamo contenti di questa visione però ecco ci raccomandiamo che sia di meno impatto negativo nel tessuto commerciale e non solo cittadino. Sareste positivi anche a un altro parcheggio? Assolutamente speriamo appunto che questo sia un primo di una serie che possa coinvolgere anche altre parti di città che sono già sicuramente coperte ma potrebbero esserlo ancora di più ed essere quindi più performanti per tutto il tessuto commerciale non solo.